Sabato 17 e domenica 18 settembre la comunità Papa Giovanni XXIII tornerà nelle città di tutta Italia con l'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi Un pasto al giorno, lanciata 35 anni fa da Don Oreste Benzi, fondatore della comunità, per trovare le risorse necessarie per aiutare chi non ha di che mangiare tutti i giorni ed è così solo da vivere dimenticato nella propria sofferenza. Ma ascoltiamo le parole di Don Orazio Torna Bene, direttore della Caritas di Ascireale. Amici e amiche, il periodo storico che stiamo vivendo continua a metterci a dura prova e per questo è importante che le comunità ecclesiali e gli uomini e le donne di buona volontà partecipano all'iniziativa Un pasto al giorno organizzata dalla comunità Papa Giovanni XXIII che nella nostra diocese di Ascireale si trovano sul territorio di Santa Venerina ubicate a Linera e Monacella e a Giarre. Ed è un'iniziativa che anche noi come Ufficio Caritas portiamo avanti perché crediamo in questa possibilità di dare un pasto a chi non ne ha. E le donazioni dunque raccolte ci permetteranno di garantire sia in Italia che in 40 paesi nel mondo almeno un pasto per tutte le persone accolte nelle varie comunità Papa Giovanni XXIII. Ogni contributo sarà fondamentale per costruire una tavola dove ci sia posto per tutti.